dark empire è molto bello e interessante sì purtroppo secondo me dopo episodio 9 sulla bocca di tutti doveva esserlo prima perché dark empire per noi fan infatti quello che vi dicevo prima leggete i fumetti legends perché alcuni sono bellissimi e c'è stato questo tentativo di replicarli nel nuovo canon tra cui episodio 9 che ha preso tantissima ispirazione lascio giudicare a voi se c'è riuscito o meno io preferisco alcune soluzioni adottate dai fumetti la buono cioè come ho detto la bad batch mi è piaciuta perché è una nuova strizzata di occhio non è la prima ma ne ha fatte altre agli spartan della serie elo ma intanto ci sono queste cose anche nel fumetto anakin obi one l'ho già programmata sulla pagina facebook van bounce vedete che c'è anakin che ripara un vecchio congegno che è praticamente guilty spark quindi diciamo che negli ultimi anni la serie di star wars quando ha potuto ha strizzato l'occhio a elo come poi episodio 2 george lucas lo strizza chiaramente a matrix c'è la scena proprio se fate caso e su corusa nel pub quello che vende gli spacca cervelli è il ragazzo che si vede sulla in matrix è quello che ha creato praticamente il programma pillola blu e pillola rossa infatti gli offre due droghe obi one che sono pillola blu e quello che pillola rossa inoltre la donna rossa di metterli si guardava il prescelto neo è lì che balla e guarda il prescelto anakin skywalker se guardate ci sono sempre stati quei richiami tra saghe anni 2000 matrix star wars elo e me piacciono tantissimo queste cose questo rispetto di omaggiarsi come poi elo in altri modi ha omaggiato star wars e allora dam parlando dell'universo espanso chiede se la trilogia sequel avesse preso l'albero genealogico the legends quindi yuk sposato amara jaden e col loro figlio per l'appunto ben skywalker obi one dedicato al mentore che poi diventato ben solo nella nuova trilogia che in realtà anche ben solo è jensen solo dart caedus qui kylo ren quindi la domanda è se seguendo l'albero genealogico avrebbero potuto renderlo più accattivante secondo me no per il semplice fatto che non è l'albero genealogico a cambiare la struttura di un racconto ma è come scrivi la sceneggiatura come evolvi la trama più o meno hanno già preso quelle basi perché per l'appunto ben skywalker figlio di mara jaden e luke skywalker è ben solo hanno mantenuto il nome però è basato su jensen solo il terzo figlio di leia e ansolo che diventava un lord sit dart caedus kylo ren non hanno preso ispirazione dall'albero genealogico cambiando poco in realtà perché è quello quello rimane praticamente tutto uguale soltanto che luke non è sposato non lo so non credo sarebbe cambiato più di tanto perché nella terza e quarta stagione nessun inquisitore va a cercare khaledium ed elzer abridger perché non esistono più tutti gli inquisitori sono morti quindi non ci sono più semplicemente quello il progetto inquisitorio finisce per i due anni prima di episodio 4 infatti dicono a veder tu sei l'ultimo rimasto di quell'antica religione non gli avrebbero mai detto se ci fossero rimasti gli inquisitori canonicamente è giusto non c'è più nessuno sì i precursori ale e irakata sono molto simili due civiltà molto antiche avanzate che hanno dominato la galassia e lasciato in eredità delle super armi non so se sono ispirati potrebbero però sono usciti quasi in parallelo alla fine quindi credo che abbiano un'ispirazione antecedente potrebbe essere quindi derivata dalla contro cultura contro cultura che anche quella è iniziata veramente tanto con matrix e quindi viviamo una simulazione o no è iniziato questo processo che nel bene o nel male ora siamo un po agli estremi però ha portato interessanti logiche sì secondo me palpati nel episodio 9 come dissi anche in battlefront 2 c'erano molte anticipazioni nel senso nei format esterni avevamo provato in ogni modo per dire guarda lasciamo aperte la possibilità perché non sappiamo come porre le basi di questo sequel se ci va male tiriamo fuori palpati quindi io ho sempre detto se prima o poi lo tirano fuori se vedono che gli incassi cominciano a diminuire se le critiche sono alte lo ritirano fuori purtroppo per me è stato quindi questo metterlo lì come ha fatto poi con dark empire quindi c'erano proprio tante basi per ritorno dell'imperatore ma nel film non erano citate solo in prodotti esterni io avrei puntato quel punto su snook cioè snook era andy serkis cioè un grandissimo attore che cos'è fatto fare una particella nell'uno e non lo so snook per me è delusione delusione perché era inutile che lo mettessero a questo punto è quello mettevi da subito kai loren axe facevi il loro coso il loro dibattito loro diverbio e dietro qualcosa di oscuro che si poteva percepire non me lo facevi vedere e poi nell'ultimo episodio scoprivo che era l'imperatore dicevo ah ma c'era sempre stato l'episodio 7 ecco chi era questa fantomatica non mi ha mostrato snook per poi sparire così cookie come hello ver benvenuto io sono rimasto un pochettino così quindi il signor giacomo conosciuto io ho parlato ieri e ho caricato per l'appunto su instagram e dopo caricherò anche la seconda parte in cui mi ha citato di lui e dario che parlavano del mio canale alex conosco quelli di star wars libri and comics conosco giorgio ma non di persona gli avevo scritto ai tempi quando ancora i nostri progetti erano all'inizio per una collaborazione poi purtroppo non ce l'ho fatta io loro si stavano espandendo in un altro modo quindi mi sono congratulato con loro per l'ottimo lavoro che svolgono ho suggerito infatti spesso e suggerisco ancora nei commenti quando mi chiedono che libri posso leggere c'è una recensione su questo consiglio sempre andate su star wars libri e comics che ne sanno tantissimo mi ero congratulato con lui sperando gli ho detto di vederci a qualche fiera sono però dei grandessimi io li seguo e anche su instagram ci seguiamo e loro se volete stanno portando avanti proprio questa questione della mondadori che non ha più i diritti quindi io vi invito se desiderate portare avanti o comunque prendere in mano questa campagna da qualcuno che in italia abbia in mano star wars fumetti e libri di vedere un po cosa suggeriscono loro che sono sicuramente più competenti di me e intanto li saluto dopo elo cosa porterò su twitch allora elo è molto lungo quindi effettivamente noi dobbiamo finire il 2 c'è il 3 c'è odst c'è rich e c'è il 4 quindi fino a dicembre noi siamo pieni nel frattempo faremo qualche altra magari blog porteremo qualcos'altro stavo pensando ad altre opere sicuramente a febbraio o marzo squadro lo vedete in tanti quindi l'obiettivo farselo regalare il compleanno e portarvelo poi io ve l'ho detto che ho un debole per uncharted quindi anche uncharted mi piacerebbe ma non riesco a portarvelo sulla playstation perché ha dei problemi la non prende non va approvato c'è qualche problema di connessione quindi non riesco a fare dirette su twitch e però non lo so ancora perché a me vengono in mente un po cose a un certo punto ho pensato anche death space cavoli che bello ci ho giocato quando proprio pochi anni fa vorrei giocarmi una trilogia e però sono pensieri che vengono così e non lo so quindi se voi avete da suggerire anche lì ragazzi ditemi pure e così io sono super felice nel senso che se mi dite guarda questo potrebbe essere buono vorrei variare un po ovvero star wars mi piace però come vi ho detto sono più affezionato a elo sotto alcuni punti di vista e io adoro la fantascienza in generale non solo quella ma sono specializzato in fantascienza matrix elo dune star wars quindi penso di stare su quel ramo fantascienza e ovviamente ci sono anche altre anciartido se suggerite trampot mi suggeriva qualche platform e adesso stiamo valutando nel gruppo degli abbonati su telegram vediamo però se avete da suggerire ragazzi io sono aperto a suggerimenti grazie a tutti grazie a tutti